Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi mettiamo un attimo tra parentesi i consueti temi storici e affrontiamo invece un tema più politico, che è l'altro caposaldo di questo canale tematico. Lo facciamo riflettendo insieme sulla recente elezione a segretaria del Partito Democratico di Elislein e soprattutto sulla presunta svolta a sinistra che questo partito avrebbe compiuto nelle ultime settimane. O almeno così è stata sbandierata ai 4-20 elementi dai media, dai mezzi di comunicazione in generale, quindi internet, giornali, talk televisivi e quant'altro. E lo facciamo riflettendo così, ad alta voce, su qualcosa che almeno a me personalmente non torna e per offrire degli spunti di riflessione su cui poi ognuno può farsi ovviamente una sua una sua opinione. Iniziamo da un primo punto. C'è stata la svolta a sinistra, il PD svolta a sinistra, il PD torna alle origini. Allora mi chiedo come mai non sentirete mai, né dalla parte dell'attuale segretaria Schlein, del suo entourage, nelle tesi precongressuali, nelle dichiarazioni post-congressuali. Non sentirete mai, sono disposto ad avere smentite in questo senso, non avrete mai sentito e non le sentirete, faccio anche una previsione, da qui ai prossimi mesi, anni, mai citare la parola socialismo. E non è un riferimento a caso che faccio. Sicuramente io sono ancora sbagliando, figlio di una concezione della politica in cui esistono tratti ideologici, dottrine politiche, valori e ideali di riferimento e oggi sappiamo che questa non è più la politica attuale. Però visto che si sbandiera il ritorno a sinistra, la svolta a sinistra, il ritorno alle origini, allora mi domando e vi domando come mai non c'è mai un riferimento alla parola principale, più importante nella storia della sinistra italiana, internazionale direi e mondiale, ossia socialismo. E qui non si fa riferimento a un ipotetico socialismo marxista-leninista fuori dai tempi e dalla storia, ovviamente non si chiede questo. Ma qui non c'è nessun riferimento alla storia né del socialismo italiano, che è una storia invece su cui un partito che vuole svoltare a sinistra, vuole tornare ad essere a sinistra, deve inevitabilmente fare i conti con quella storia, con quei valori e direi anche con orgoglio, con la voglia di sbandierarli ai quattroventi. Ma non c'è neanche nessun riferimento al socialismo europeo, alle socialdemocrazie europee, a quello che quotidianamente ha i valori, agli ideali, che quotidianamente i partiti di ispirazione di sinistra, socialisti europei, hanno nei loro programmi. Perché? Che sia l'ESP tedesca, che sia un partito socialdemocratico del nord Europa, che siano i socialisti francesi, i socialisti spagnoli, con partiti più o meno in crisi? Ma troverete in tutte queste formazioni di sinistra discussioni in cui ad alta voce si dice quale socialismo democratico europeo possiamo costruire nel ventunesimo secolo? Quali sono le sfide? Come reagisce il socialismo democratico e il socialismo europeo di fronte alle grandi sfide della modernità, i processi di immigrazione, la globalizzazione, le guerre, la costruzione dell'Unione europea e di questo polo fondamentale del mondo e via dicendo. Invece qui questa parola è completamente bannata. Penso che sia un qualcosa di non casuale, che ci dà delle indicazioni importanti su quale sia la vera identità poi di questo partito e di come questa svolta sinistra sia più nei titoli, nella forma, nell'immagine, ma che di sostanza ci sia veramente molto poco. E questo è uno spunto di riflessione. Il secondo è sui temi programmatici, soprattutto sui diritti sociali. Mi si dirà sì, però adesso il PD parla nuovamente di diritti sociali, diritti dei lavoratori, vuole ricostruire un rapporto con il suo popolo che è andato perso negli ultimi decenni, con la sua storia, con i suoi valori originali, la giustizia sociale, eccetera. Sì, tutto vero se non fosse che le politiche che dice di criticare, quindi flessibilità del mercato del lavoro, i vari contratti a progetto, il mondo dei co-co-co, del jobs act, della flessibilità in uscita, dell'abolizione dell'articolo 18, ossia della tutela in caso di licenziamento. Sono tutte politiche che il PD ha perseguito in questi 20 anni. Quindi o qualcuno ci mette la faccia nel dire abbiamo sbagliato tutto per una sorta di immagine da costruirci, di accettazione più che altro che richiedevamo ai mercati finanziari, all'Europa, eccetera. Abbiamo snaturato completamente la nostra storia, abbiamo per 20 anni rappresentato le peggiori politiche neoliberiste, ultraliberiste, a danno dei lavoratori italiani, producendo flessibilità in maniera disumana, cancellando prospettive di vita per i ragazzi a medio e lungo periodo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci si mette la faccia, si dice questo, facciamo autocritica, me ha colpa, oggi ritorniamo indietro cercando di ricostruire invece, cercando di dare delle risposte socialiste da questo punto di vista, riformiste realmente a queste sfide, a questi problemi. Allora potrebbe anche valere qualcosa. Detto così sinceramente non ha alcun senso, perché sembra veramente di essere su una candid camera in cui si sbandierano punti programmatici che sono smentiti da 20 anni di politiche esattamente opposte e contrarie. Infine l'ultimo spunto è sul tema dei diritti civili, un tema invece su cui questo nuovo PD ha trazione sinistra e entra in maniera invece molto forte, molto decisa, ma anche su questo non c'è bisogno di alcuna svolta, non è frutto di nessuna svolta sinistra, è esattamente quello che il PD ha fatto negli ultimi 20 anni, ossia si è scordato completamente di tutto ciò che è diritti sociali, interessi delle classi popolari, dei lavoratori, eccetera, e si è concentrato invece sempre e solamente su diritti eventuali di minoranze, rappresentando una sorta di partito radicale, con tutto il rispetto per la storia e per il partito radicale, una sorta di partito radicale di massa, diciamo. Ma questa non è però nessuna svolta rivoluzionaria o socialista, è esattamente quello che il mainstream chiede, è esattamente la piattaforma di quella che con formula abbastanza felici è stata ribattezzata la sinistra di Sanremo, né più né meno. Si può essere d'accordo o meno, non entro nel merito, ma questo non rappresenta nessun tipo di svolta sinistra, anche perché non siamo fortunatamente né nell'Italia del dopoguerra dove sono state combattute giustamente battaglie, penso alle leggi sul divorzio, sul diritto all'aborto, eccetera, perché c'era un'esigenza di aggiornamento dei costumi, della società italiana di trasformazione. Oggi fortunatamente non siamo né a Kabul né a Teheran, siamo in una società secolarizzata occidentale in cui forse la riflessione è opposta, nel senso c'è una tendenza eccessiva, ma questa è una mia opinione, al concetto di diritti di ogni tipo e molto meno al rispetto di determinati doveri civici, ma a questo apriremo tutta un'altra discussione. Ecco, vi lascio questi spunti da cui si capisce quindi qual è la mia opinione sull'elezione di questo segretario, non per un discorso personale, ma per un discorso proprio programmatico e su quanti dubbi personalmente nutra su questa svolta a sinistra. sarà per qualche retaggio ancora dei miei vecchi esami universitari di storia delle dottrine politiche e di scienze politiche, ma per me nel momento in cui c'è una svolta a sinistra mi aspetto determinate cose e quindi mi aspetto una riflessione culturale di tutt'altro tipo, un riferimento alla storia, alla tradizione del socialismo italiano, del socialismo europeo, fare i conti con quella storia, con i suoi tanti meriti, con i suoi errori, rivendicarla e poi comportarsi di conseguenza e quindi affrontare le grandi questioni di questi tempi con riferimenti ideali di quel tipo, dando risposte di quel tipo. Se si fa questo è un'operazione assolutamente coerente, logica, che risponde a un'esigenza reale che è quella della mancanza attualmente di una grande forza della sinistra europea in ambito italiano, ma se non è questo, se non ci sono quei riferimenti, se non si fanno i conti a fondo con quella storia, se non si riprendono certi valori, certi riferimenti ideali con nomi e cognomi, tanto per essere chiari, della storia, della tradizione, della sinistra e del socialismo italiano, quindi da Bettino Craxi a Saragat a Nenni e se vogliamo fino alla tradizione, alla migliore tradizione comunista. Vedo che in alcune sezioni del PD si sono affrettati a rimettere alle pareti i ritratti di Enrico Berlinguer, giusto se c'è quel tipo di operazione. Se non c'è questo ed è soltanto una, come sembra, una romanella in cui si vuole apparire di sinistra perché si mettono in campo programmi, impianti programmatici, scelte che sono esattamente quelle che il sistema sbandiera tutti i giorni ai 420, credo che bisogna nutrire parecchi dubbi. Vi lascio a queste riflessioni, spero che possano essere state di interesse, vi invito come sempre, partecipate, commentate, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video e fatemi sapere la vostra opinione e ne discutiamo insieme. Grazie, alla prossima!